Signori, nonostante la febbre, nonostante le palle gonfie, cioè queste qua Vabbè, palla gonfia sotto la gola, non capite male È un mal di gola assurdo, vi giuro, raga, non riesco a parlare Sono qui per vedere, siamo qui per vedere Armin, ve lo ricordate? Ex Armin, ora ex Dwayne, ex 2, abbiamo creato un nuovo team, ma niente spoiler È l'ultima volta visto stagione OG, mostruoso, il player più concreto dell'Academy, ora non più un'Academy In mia compagnia c'è l'Oxelone che mi farà da spalla destra, bella Xela, mi raccomario Fate controlla, fammi vedere se ho fatto bene a farla entrare nel team 2 degli ex Che io ragazzi sono fotosensibile, se si dice così, mi danno fastidio le luci Quando vede la febbre è così, non riuscite a vedere lo schermo, io ho pure le luci a scese Sto facendo tutto questo per il content Quindi per il content supportatemi nello shop, dico trattino abusivo, mi raccomando Se volete farvi notare e fare il provino che sono gli abbonamenti, ma tutto è live Ok, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 e mezza alle 21 E se volete provare a migliorare il vostro ping, c'è quest'app miracolosa in descrizione È gratis i primi giorni, provatela e fatemi sapere, è tutto in descrizione Detto ciò, raga, a me fa male anche l'orecchio, non sto scherzando Ho il fiato, mi sento malissimo Però, però, come ho detto, andiamo in salta Vai minchio, mettecela tutta Signori, qua non si scherza Il termometro, mi sono dimenticato di farlo vedere nell'intro Cioè, dove lo mettete voi? Io sotto l'ascella? Dexelan, il culo? Oppure sempre sotto l'ascella? C'è chi lo mette in bocca? Chi sotto l'ascella? Chi nel sedere? Modalità speracca, troia Mi giuro, raga, non riesco a parlare Bella Armin, bella Ci sono, eh Ok C'è là, tu sei, ci sei? Sei dentro? Sì, ci sono, prontissimo, carico Ok, dai, let's go Ricordami un po' l'età, ho età 18 Poi ping, FPS, non ricordo, fratello, sono passati mesi Adesso il ping è a 30, più o meno E l'FPS è a 240 Vabbè, buonissimo, cavolo, buonissimo C'è là, devi parlare più te che me Mi giuro, non so, mi sto esplodendo Sto Non ha capito, ti sento bassissimo, sono sicuro di voler registrare Penso che sì, almeno che non lo so Muoio in diretta, più viso, la raga Ma quello Sì, ma quello non è un bot Quello si stava mirando Stava cercando di capire È comparsa pure la skin Sembra 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 che abbia l'Ambot comunque, arminchione Non so se hai visto, però va bene Non ci facciamo Non ci facciamo domande Un altro Eh, vedi, ho parlato di aimbot Ma dove sei sceso, Fra? Per curiosità, alla fine? Bus esonico No, 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 è sceso alla fine, Armin Questo è un bot, invece Di che Armin non parla quando fai Fra, sei sceso alla fine? Sì, sono sceso alla fine Allora, questi erano tutti quelli a FK Che sono scesi perché magari stavano in bagno Stavano prendendo da bere, eccetera Ok, ragazzi Mi sono mutato con il mixer Non dovrebbero sentirmi Xela 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 Arminchione Ok, non mi sentono Raga, io sto male sul serio Ho la febbre, il mal di gola, eccetera Però avete presente i troll che vanno di moda Svengo mentre gioca a Fortnite Ok, svengo mentre faccio il provino per la febbre Per colpa della febbre Quindi ora Cercherò Come faccio? Tipo non rispondo più per un po', faccio finta di parlare E dire, mi sento Non lo so Ok, mi sono Raga Raga, mi sentite? Non so Ok, io parlavo fino adesso Non lo so, non mi sentivate voi? No, ok Ok, no, non lo so Avrò problemi Non lo so, sì Ma forse perché non lo sto laggando Cose che succedono Comunque raga, dico la verità Dico la verità fuori video Fuori video Io mi sto a sentire male Se vi giuro, sento troppo caldo Avete presente con la febbre, no? Xela Quando hai la febbre alta Guarda, Carmine ci muore, eh Ok, l'hai visto, l'hai visto L'hai visto È un bot Ma credo sia un bot Vediamo se è un bot vero E quello là sotto, no Ma pure quello è un bot Tutti in bot Quello era un bot Cioè, capite? Non un bot Dei bot Un bot programmato Cioè, è un bot programmato Un bot materiale, capito? Un bot farmamateriali Un bot materiale Raga, non so parlare Vi giuro Sto Avete presente vaneggiando? Quando C'avete Come si dice? Quando avete la febbre alta? Ok, uno vaneggia Uno dice cosa a caso Delirando Eh? Delirando Vedi, non mi vengono neanche termini Porca misera Sto delirando E sto sudando come un cane Mi giuro Ok, ragazzi Mi sono rimutato E sono stato credibile Cioè, in realtà sto male Ok, ho mal di gola Mal di orecchio Però non sto delirando Non ho mal di testa Non sto sudando Quindi non è febbre altissima È febbre con mal di gola Raga Io mi sa che stoppo la registrazione Sapete? Perché giuro Mi staffa male tutto Proprio gli occhi Gli occhi Gli occhi mi fanno malissimo Non riesco a vedere lo schermo Quindi sarebbe un video di merda E non mi sento molto bene Forse mi vado a stragiare Che dite voi? Cioè, seriamente Che dite? Armin a te dispiace Armin a te dispiace Oppure Facciamo un altro giorno Ma c'è lì Oh, non mi dispiace Gua, l'altro sei forte sempre Hai fatto pure belle kill A parte che erano tutti i bot Quindi Non lo so Sera tu ci ristaresti Nei prossimi giorni Facciamo così Facciamo così Facciamo così Facciamo così Facciamo così Per adesso vado Per adesso vado Quello è un bot Madonna che lobby Per adesso vado Ok? Per adesso vado Non mi sento bene per niente Guarda quest'altro Il free build Sembra si diverte Guardalo Avete mai avuto la febbre altissima voi? Sì Alta alta Il mio record in realtà è 38 e mezzo Sapete? Quindi la soffro parecchio Ti Armin? Io Io più o meno 40 2 soldi e meno Parca miseria Se io sto così a 38 e mezzo Pensa a 40 Io mi sento tipo Che mi manca l'aria Rega Non sto a scherzare Raga non potete capire Quanto cacchio me sto a scorsare Vi giuro Giusto per tenerli occhi aperti Che quanto sto male Mi sta girando la testa E' incredibile Stavolta Facciamo un'altra volta Guido Dai non so niente Poi possiamo fare un'altra volta Tanto me non cambia Non lo so Raga Non lo so Un'altra volta Ok raga Mi sono rimutato Farò finta di svenire Semplice Cioè sto parlando a rallentatori Raga Oh sono entrato troppo Veramente Non lo so Immaginate svengo sul serio Sono entrato troppo nella parte Lo troppo bravo E' vero Ci siamo pure domani Tanto vai Eh? Domani? Ci siamo pure domani Oddio ma c'è poco da vedere qua Raga Ora non risponderò più Ok? Voglio vedere Voglio vedere Che cosa fanno Voglio vedere se sono veri amici No Vabbè ci stanno Boh sì Arminchino ha detto qualcosa Dico non ci sento Boh non risponde Diego Ti senti? Ma tu lo senti? Vabbè frate Magari Vabbè Ho laggato Magari che ha detto? Voglio vedere come si comportano Raga Vi giuro Voglio vedere come si comportano E cosa fanno Fino ad un attimo fa c'era Se mi scrivono Io ho il telefono apposta Magari scrivoli E' andato Ci credo Al limite è crashato Ma scusa Non ci sta il lobby Sì Ci sta il lobby Raga questi sono scherzi veri Non quelli là Che fanno finto Sono svenuto con l'amico Oh mio Dio Svenuto Chiamo l'ambulanza Vabbè Ma che scherzi sono Sono tutti programmati Per i bimbi Minchia Queste sono cose vere Vedere la reazione Porca miseria Ha detto che mi scrivi Ok mi ha scritto Sera D.A.O Mi sto scherzando D.A.O Sì cerca di evitare persone Così non perdiamo poi Sì non so Non ho la minima idea Di come possa andare a finire Voglio sapere Cioè Come reagiscono Poi che sarà Mi ha conosciuto nella vita Come reagisce Penserà che sto crashato Penserà che sto crashato E questo è il problema Con la mia connessione africana Con i 4G Penseranno che sono crashato Però Ho dato l'input Ho detto che porca miseria Stavo male Ma come ha chiamato Magari ti rispondo Ma come ha chiamato Mi chiamate pure addirittura Non vorrei che sta fa qualcosa Lo chiamano Non stanno pensando che io possa essere svenuto Mortacci vostra Ma come ha chiamato Ma come ha chiamato Xela Non so se si vede Ah continua Non rispondo Continua E che facciamo Io Ma se non torna È un problema Non solo per il game Cioè cosa devo fare Eh sì lo so Raga questi stanno a preoccupare il game Non per me morta No basta Finisce qua L'anima dell'immortacci vostra No Se stanno a preoccupare il game Non per me Che potevo sta male No Volevo trollare Volevo trollare Che ero svenuto Se ne sono sbattuti Pensavo no del game Ma per te Ma raga che amici Che amici GG Siete dei dottimi amici Cioè se stavano a preoccupare il game No del mio svenimento Della mia possibile Non lo so Ok che potete pensare del crash Con la mia connessione Ma che potevo pensare Dello svenimento Ma se ne sono detto mezz'ora Che sono stato male Che stavo male Armin un po' ha detto Ma stava male Non è che Te no Ma per te Non voglio pensare Una cosa del genere Ma dai Dacci vostra E se fosse svenuto sul serio Ma fratello Vabbò ma sarà un po' C'è comunque ti scrive Ma mamma Ti continuavo a chiamarti Ma ci ne stavamo preoccupando Forse ho avuto poca Troppa pazienza io Cioè l'età Scherzo non riuscito Perché c'ho due amici Rincoglioniti Guarda io ti consiglio Di ammazzare il bot Prova il flicchetto così Armin Delle X2 Si bossa È arrivato qualcuno Eh ci arriva qualcuno con le armi Per fortuna poi Oddio ma io le odio troppo quelle Ti giuro Ma il blu è sceso del tutto Oh sull'albero Guarda che fame Non riesce a prendere muro È scappato con le armi Madonna ma questo sa che esistono le build No è un bot Eh è un bot Perfetto fra Ma questo Xena che dici che è un bot Dai Fra Tu devi Oh cadroia Oddio Oddio fratello Ma quanto ti ha fatto fra Che c'è il rischio Eh tecnicamente c'è qualcuno qua sotto Ma Quello cosa sta facendo Non fatemi ridere È uno segue Goku Ma che paura non è Goku Aspetta Black Goku Ma è morto a caso Io vedo uno skin Ma che lobby è frate Stai zitto Xela Stai zitto che il tuo record di kill è tu In live con noi Quindi stai zitto Allora Sì ma non era contro questi Stai zitto Eh Xela Eh Armin L'ho detti tutti L'ho chiamati Hai qualcosa da dire Qui si sta Ti sta Si sta accanendo contro le tue lobby Capito No fra Io meccanisco contro tutte le lobby Piene di sti bot Eh zitto Perché io non le trovo Qualcuno sta rosicando eh Eh qualcuno qua Sta rosic Guarda dove sta È uscito da una situazione bruttissima Sì ma non possono farti così tanto E te 37 Cioè sta cosa Freda io manco li vedo I danni e meno male Guarda Se no già stavo a Lui ha fatto 37 Lui ha fatto 37 Da 9 kill eh Non si vedono Perché ci sono io Mi tolgo 9 kill Mi abbasso Anzi facciamo così No No Il dioco trattione abusivo Comunque ho notato una cosa Su questi pompa Cosa Praticamente te devi scegliere Se rischiare E birare in testa Quindi fare o Un 30 O un 180 Lui ce l'ha il cettino Ho detto Ok Uno contro uno Fini mazzo Che facciamo adesso Ora perdi Fra O farmi Questo Diego Trattione abusivo Ma che giocata finale ha fatto Quello era Ukovo Quello era Ukovo Io ragazzi Credo che Quello era Ukovo Signori Quello era Ukovo Non a caso Io credo che Andrò a dormire Non a caso E andrò a svenire Svegliere Svegliere Grazie a tutti.